Ciao, sono Costantino Biortocchi e oggi vi racconto una casa di Shah. Please welcome. Siamo in piazza 25 Aprile, Moscova e Corso Garibaldi, in una zona ovviamente molto particolare. Abbiamo un ampio bilocale di circa 90 metri quadrati, come vedete con rifiniture di puro pregio. Living con doppia finestra e balcone. Aria condizionata, pavimentazione in resina, riscaldamento centralizzato e una cucina molto particolare. Cucina con l'affaccio sempre finestrato sulla strada, con isola all'americana. Però vi dico una cosa, ci vediamo dall'altra parte, così vi faccio vedere anche la zona notte. Eccoci qua. Armadiatura a filo muro su tutto il corridoio. Bagno a 5 stelle per il vero relax. Box doccia in cristallo e vasca da bagno per godersi le vere giornate di relax nel trantran milanese. E manca solo una cosa a questo punto. La master bedroom. Non ve lo dico neanche. Letto matrimoniale con ampia cabina armadio. Balcone che affaccia sulla via con questa piantumazione che sembra una giungla, che ha uno spettacolo, non sembra neanche di essere a Milano. Come al solito, il prezzo lo trovate giù in descrizione. Ed è ovvio che gli immobili che ha da Toscano, ce li ha solo da Toscano. Buongiorno. Grazie a tutti.